In un pomeriggio in pieno centro senza paura e con l'obiettivo di svaligiare case non avrebbero portato via oggetti di grande valore materiale sembrassi a magro il bottino ma in poche ore i ladri sono entrati in sei abitazioni di San Giuliano di Puglia provocando soprattutto danni e allarme in paese tanto che il sindaco Giuseppe Ferrante richiama all'attenzione e alla collaborazione tra i cittadini tutti gli indizi portano a una banda di almeno tre ragazzi pare di accento pugliese visti girare su un'auto sospetta Purtroppo ieri qui a San Giuliano abbiamo registrato sei furti in abitazione e dalle prime ricostruzioni si tratta di un Opel Insignia con a bordo tre ragazzi sulla ventina dall'accendo pugliese stiamo cercando attraverso le telecamere comunali stiamo proprio cercando di ricostruire tramite le immagini se era possibile individuare queste persone il mio messaggio vuole essere quello di far girare queste informazioni soprattutto per evitare che tutto ciò accada anche negli altri paesi limitrofi non manca la paura di ritrovarsi in casa sconosciuti senza scrupoli il dispiacere di vedersi privati di cose personali e di sentirsi violati in un caso i ladri sono stati messi in fuga dai proprietari che erano in casa e che hanno sentito rumori solo qualche giorno fa diversi colpi erano stati segnalati a Santa Croce di Magliano adesso a San Giuliano il sindaco Ferrante ha analizzato i video delle telecamere installate in paese i carabinieri sono al lavoro in tutta la zona ora servono occhi spalancati